Ciao, francamente ho sempre pensato che tutto quello che faccia Giovanotti sia costruito a tavolino con dello splendido marketing. Ha iniziato da ragazzino a fare yo-yo, poi si è trasformato in una specie di figlio dei fiori, difensore del terzo mondo del Sud America e per poi diventare il fratello dei fratelli Bildenberg. Francamente tutto quello che fa mi sembra studiato ad arte per risultare political correct, per essere appetibile al pubblico italiano come qualcosa di tranquillo e facilmente vendibile. Quindi associare Giovanotti all'ambientalismo mi sembra veramente utopistico. Dimmi che cosa ne pensi, seguimi, ho bisogno del tuo sostegno per crescere. Un saluto a tutti da Marco Fai, altro esperto del fotovoltaico. Ciao!